Si stima che la popolazione mondiale sfiorerà i 9 miliardi di abitanti nel 2050 e l'impatto sulle risorse naturali sarà presto devastante. La Commissione europea ha adottato una strategia per indirizzare l'economia europea verso un più ampio e sostenibile uso delle risorse biologiche rinnovabili, per produrre alimenti e mangimi sicuri e sani, ma anche materiali, energia ed altri prodotti. In vista del convegno del 22 e 23 ottobre, in cui personalità e studiosi della biotecnologia si confronteranno a Napoli sul tema, questa mattina nell'aula magna dell'Università Suororsola Benincasa l'argomento è stato affrontato ed offerto all'ascolto degli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori per rendere note ai giovani le grandi potenzialità che il settore della bioeconomia e delle biotecnologie può offrire. Dalla discussione emerge che gli aspetti chiave sono tre. Sviluppare tecnologie e processi produttivi nuovi, sviluppare mercati e competitività nei diversi settori della bioeconomia e stimolare una maggiore collaborazione tra i responsabili politici e le parti interessate per passare ad un'economia post-petrolio. Si calcola che per ogni euro investito in ricerca e innovazione nella bioeconomia, la ricaduta in valore aggiunto nei settori del comparto bioeconomico sarà pari a 10 euro entro il 2025. Può offrire un'occupazione qualificata, post di lavoro a ragazze e ragazzi che hanno percorsi universitari importanti. È una branca dell'economia giovane e in fortissima espansione perché parla del mondo, dell'economia, parla del futuro, delle persone Napoli e la Campania hanno dei punti di grande eccellenza. Con questa iniziativa rivolta a oltre 350 studenti noi anticipiamo i contenuti di un convegno internazionale di grande livello e qualità. Insomma, un convegno che se riguarda le persone, i ricercatori, gli esperti che fra alcune settimane si troveranno a Castel dell'Ovo, oggi ha una tappa importante con il futuro. Le ragazze e le ragazze li vogliamo informare e soprattutto vorremmo determinare in loro tanta curiosità.